Si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario della provincia di Agrigento per la programmazione delle attività didattiche. Il Presidente Gaetano Armao ha illustrato la situazione attuale del CUPA. Fondato nel 1994 in un costante trend di crescita, ha detto Armao, il CUPA ha realizzato in questi anni importanti obiettivi. L'aumento del numero dei soci, che da tre iniziali, provincia, comune e camera di commercio, sono diventati 13, circa 1.809 studenti iscritti, tre le facoltà di laurea presenti, architettura, giurisprudenza, lettere, ma ci sono anche corsi di laurea triennali, beni culturali e archeologici, servizio sociale. Sono stati istituiti master e corsi di perfezionamento e la didattica si svolge in due plessi, nella sede di Via Quartararo e a Villa Genuardi, un'ulteriore prestigiosa sede della centralissima città di Agrigento presso il Palazzo Tomasi di Lampedusa. Il Polo Universitario di Agrigento ha il fine di perseguire una serie politica finalizzata al graduale sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, all'attenta ottimizzazione dell'offerta formativa, al progressivo miglioramento dei servizi, all'avviamento di importanti processi di internazionalizzazione e di collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa. Fin qui la fotografia del momento attuale, che ha visto l'esclusiva partnership con l'Università di Palermo, mentre per il futuro si sta lavorando a nuova intese con la Luisti Milano, con la Core di Enna e con l'Università di Messina per l'attivazione di un corso di laurea in veterinaria. I problemi non mancano sicuramente e uno degli ostacoli alla programmazione è la carenza di fondi. Anche le notizie che arrivano dall'Ars non sono confortanti. Su questo argomento ha preso posizione la Will di Agrigento con il segretario generale Gero Acquisto, che ha analizzato l'ultima finanziaria regionale approvata dall'Ars che, dice acquisto, boccia ancora una volta l'operato dei parlamentari agrigentini e la loro azione politica. Niente di buono per lo sviluppo e le opportunità per il nostro territorio, anzi a questo punto per il consorzio universitario è notte fonda, dice acquisto. I 3 milioni e 200 mila euro da dividere tra i consorsi siciliani rappresentano la morte per il polo accademico agrigentino. Ci aspettavamo una presa di posizione netta della deputazione che non c'è stata. Noi abbiamo detto sempre, come Will, che il CUP ha un patrimonio di tutti, senza colorazioni politiche, ma ha un posto di cultura, sapere e realizzazione per gli studenti e per le famiglie che scommettevano su una università territoriale e trampolino di opportunità e di professionalità. Purtroppo la politica, la gestione e la governance nei tempi di crescita ha guardato quasi esclusivamente al carrierismo di amici e parenti e a spese è che oggi, come si è visto, erano poco giustificate con l'aggramante che i rapporti con l'Ateneo Palermitano hanno avuto negli ultimi anni solo contenziosi e rapporti tesi e di smantellamento del polo decentrato. Oggi la situazione si fa buia. Conoscendo la serietà del Presidente Armao, conclude acquisto, chiederemo un altro incontro per avere direttamente da lui contezza se ci sono ancora margini per il rilancio.